Manca poco all'inizio del campionato di Serie A per il Pescara e i suoi tifosi un esordio da brividi con il Napoli vice campione d'Italia. Una sfida che riporta indietro nel tempo con precedenti legati a grandi campioni. Sì perché dall'87 all'89 questa partita è stata tra le altre cose la sfida nella sfida tra Leo Junior e Diego Armando Maradona. Non solo, Pescara-Napoli è stata anche la prima gara in assoluto dei Biancazzurri nella massima serie nella stagione 77-78. Un debutto traumatico per la squadra di Giancarlo Cadè, travolta da tre gol nel primo tempo prima della rete della bandiera di Giorgio Repetto nella ripresa per l'1-3 finale. È stato il primo di sei precedenti nella Serie A allo stadio Adriatico con il bilancio di due vittorie del Delfino, tre partenopee ed un pareggio. Il primo successo Biancazzurro datato 2 dicembre 79, 1-0 con gol partita di Cinquetti. In panchina Gustavo Giagnoni sul fronte opposto Luis Vinicio. Nel maggio del 93 il Pescara avviato alla retrocessione e con Zucchini in panchina al posto dell'esonerato Galeone infligge tre reti al Napoli di Bianchi con le firme di Palladini e del compianto Borgonovo, doppietta. Negli anni 80, oltre alle ricordate sfide Junior Maradona, 0-1 nel primo episodio, con rete di Giordano pari a reti bianche nel secondo, resta negli annali il precedente di Coppa Italia, stagione 84-85. La prima partita all'Adriatico del Pibedeoro illuminata dalla rovesciata da terra dello stesso fuoriclasse argentino. Il Napoli domina e vince 0-3 nonostante le parate di Pacchiarotti. L'episodio più recente è invece targato 27 aprile 2013. Il Napoli di Mazzarri domina in lungo e in largo sul Pescara di Cristian Bucchi, che crolla sotto il tris calato da Inler, Pandeve e Zemaili. In campo dal primo minuto l'attuale biancazzurro Campagnaro, in signe alla prima da ex all'Adriatico, tra i biancazzurri l'unico superstite Gianluca Caprari. Nel complesso tra Coppa e Campionato in Abruzzo ci sono 14 precedenti, tra le vittorie del Pescara, tra i pareggi, 8 quelle azzurre. Per il prossimo episodio appuntamento domenica sera alle 20.45 in una cornice da tutto esaurito.